Attenzione, questo video contiene importanti spoiler riguardo agli avvenimenti del gioco. Per chi non volesse anticiparsi la trama, sconsiglio la visione del contenuto. Per tutti gli altri, buona visione. Sì, ma come si fa ad attaccare e schivare allo stesso momento? Una roba del genere. Penso io, sta pensando lei. Sì, Cristo pietà. Comincia a girare bene. Ui, grande! Non manca tantissimo, manca un terzo. Sì, ma non posso venire ogni volta. Bene. Via via via, il debito è a distanza. Vai, un critico, un critico! Ancora. Ok, 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 ok. Vai, un attacco, un salto. No, no! Zinzac, zinzac, muori! No, non limitarmi così! No! No, non esattificare. non perché faccio il contrattacco critico quando mi sta attaccando perché sono scemo a ma come fa a beccarmi buona luna dai dai un critico un critico no no non evitarmi così devo fare attacchi semplici ecco questo con tutto il cuore ce l'ho fatta cheat rimembranza della caverina della luna gemella tua madre 240.000 smegoioni un bel 0 rune recuperate che sudata letteralmente avanzo di livello forza via mamma mia per questo video ci becchiamo te non so perché recupererò altro materiale prossimamente arrivederci